Il nostro programma sta per arrivare insomma una donna che quando ha deciso di cimentarsi nello sport è diventata campionessa di lancio del disco quando ha scelto di scrivere canzoni si è trovata a diventare paroliere del grande Domenico Modugno insomma poi si è cimentata nella tv ed è diventata personaggio dell'anno insomma qualsiasi cosa faccia adesso ha scritto il suo terzo libro chissà che cosa sarà capace di fare la copertina di Lucia Loffredo la testimonianza a cui stiamo per assistere non è quella di un caso limite ma semplicemente uno dei 15.000 casi che in Italia vivono questi ragazzi appunto maltrattati sono arrivati moltissime lettere moltissimi fax ma che succede notizie brutte cioè i documenti i documenti che mio padre teneva nella casaforte non ci sono Enrica Bonaccorti lo spiegherà ancora meglio cercheremo di darvi delle informazioni di carattere così diciamo turistico oppure segnalazioni di spettacoli da andare a vedere ecco tutto questo ed ecco noi a vita in diretta Enrica Bonaccorti Eccola benvenuta Enrica Bonaccorti che storia allora guarda ce l'ho io ce l'hai tu mi sono vestita come te spesso ti ho visto Marinaretta sei un po' Marinaretta l'ho fatto per omaggio a te grazie non lo so mi ricordo mi ti ricordo così l'ho fatto proprio per te senti fra poco parleremo di questa tua terza opera letteraria ma evidentemente tu insomma nel mondo dei letterati ti ci trovi molto bene no mi devi spiegare questa cosa che io ho letto ma è vero che ti ha fatto delle avance il grande Ungaretti no ma mi ha poggiato una mano su una gamma ma tu eri giovanissima io avevo 18 anni sì ma a me mi sembrava di portare in giro Dante capito una cosa del genere no perché in quel momento ho fatto parte anche il gruppo anarchico degli uccelli che andavamo nelle case dei grandi da lui da Carlo Levi perché noi siamo della stessa parte tutti così e un giorno mi ha detto lo accompagni tu e io con la 5 centina di mamma mi sono trovata accanto a Giuseppe Ungaretti che non riusciva a crederci che stessi vivendo quella cosa lì perché io proprio scrivevo già in quel periodo tutte ermetiche come lui poi ho cambiato sì sì ma comunque un'altra cosa che non sapevo di te è che tu appunto hai fatto sport e sei diventata campionessa di lancio del disco spiegami come è possibile perché mancava un numero mancava un numero ma non ci credo sì mancava un numero allora ai lanci allora al lancio del peso l'ho messo una e al lancio del disco l'ho messo me che io non sapevo niente e infatti tre giorni per prepararmi non ho potuto neanche imparare sapete a fare quei tre giri che si fanno e ho detto posso farli con i piegamenti allora facevo così faccio vedere come si faceva faccio vedere come si faceva così uno due e al terzo è andato lanci è passato un angelo l'ha portato a 35 metri perché è assurdo è passato un angelo proprio io mi sono fontissima no devo dire che la parola caso io la scrivo come scrivo anche nel libro con la C maiuscola e mi hanno detto che non è un per una cosa così è che veramente si era il dio caso che era più importante anche di Giove nell'Olimpico perché dell'Olimpico dell'Olimpo dell'Olimpico era il più forte era Totti insomma il caos praticamente può governare anche gli dei io credo che il caso vada scritto con la C maiuscola però la verità è che tutto quello che tu decidi di fare lo fai benissimo per esempio lei decide di scrivere una canzone e viene fuori no 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 insomma tu a vent'anni hai scritto la lontananza adesso mi devi spiegare com'è possibile perché lavoravo con Modugno anche lì con grande fortuna perché io avevo iniziato pochi mesi prima facendo la scavalca montagna con una piccola compagnia off di Franco Mollet con una sua commedia per il suo periodo fantastica tutto il suo periodo d'attrice sì e sì io ero un'attrice di prosa quello volevo fare a parte la giornalista e il medico però insomma ero lì l'amministratore della compagnia di Modugno mi vede per caso una sera al teatro Tindari prende il numero io non lo sapevo e a settembre papà mi fa trovare questo bigliettino in cui c'era scritto ti aspettano martedì al teatro dei Servi alle tre per un provino le ho detto papà è uno scherzo non lo sa nessuno ho appena cominciato così ma figurati non era uno scherzo vado insieme alle altre ragazze mi prendono dopo due mesi e mezzo la seconda attrice va via dalla compagnia perché è uno scandalo così chissà tutta la parte a memoria sicura tu sei sempre conto io ho debutato al Manzoni di Milano dopo pochi mesi che lavoravo in una grossa parte con Modugno lavorando tutti i giorni con lui vivendo tutti i giorni con la compagnia e lui mi ha insegnato come si scrivono le parole per le canzoni perché io scrivevo tanto già poesie racconti e lui mi ha detto perché non scrivi per la musica e mi ha detto come si fa e come si fa l'hai capito molto molto bene anche in fretta erano parole che avevo sul mio diario dei 14 anni e poi le parole di Amara Terrami erano sul mio diario dei 17 anni insomma tante cose riascoltiamole addio addio amore io vado via amara terra mia amara e bella la lontananza sai è come il vento che fa dimenticare chi non sa mai ma è già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima veramente due capolavori e tutto parte da un diario della tua adolescenza io la notte quando vedo Mimmo in quei programmi che grazie a Dio la RAI ci ripropone tante cose antiche io mi alzo dal letto lo vado a toccare lo schermo ti do una carezza senti e se io ti dico Renato che mi racconti mi dicono una canzone Renato 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 ma io parlo di lui oh Renato Angelo ma tutte foto mie qua intorno ci sono tutte foto tue sì sì beh ma quella sono la povera la vita in diretta è una storia lunga quindi allora tu devi sapere che io in questo studio sono entrato ho fatto il calcolo fra tre mesi visto che oggi è il 28 il 28 febbraio dell'83 io sono entrata in questo studio e ho detto per la prima volta buonasera Italia ed era Italia sera e cominciava tutta la stagione che poi ha accolto tante coppie in quel momento eravamo io e Miro D'Amato anzi Miro D'Amato ed io come adesso ci sei tu con Matano e prima tante altre coppie e mi ricordo che i nostri produttori insomma i capostruttori dicono ma vorrei di che dirlo veramente buonasera io voglio darne il tuo all'Italia allora si dava del lei adesso tutti il tu però la senti moltissimo la senti moltissimo fu un'idea di Brando Giordani che ha inventato questo tipo di spazio però dico anche tu hai inventato un modo di essere con il pubblico diverso io inventavo il titolo però non mi scappare via il titolo non mi scappare via Italia Sera è il mio tipo non mi scappare via parlami di Renato vorrei sapere ah Renato eh no perché poi ci vuoi poi parli a vecchio no Renato è stato un amore Renato è stato proprio un'illuminazione in un certo momento della mia vita perché avevo capito subito il suo grande talento lui per me era un angelo dalle spalle larghe e insomma io ero affascinata e sono tuttora affascinata da Renato tuttora e ho fatto per lui tutto quello che potevo ti sei anche finta agente come no con la borsetta di mia madre guarda che fa con la borsa di mia madre faccio finta di essere più grande per trovare il mio assistito Renato Fiacchini ha già fatto grandi successi ovunque stato avevamo messato da sua parte e io facciamo anche spettacolini insieme io e lui senti cantiamo un po' insieme a Renato cantiamo di sembra Renato mi vendo la finta che non hai il cambio del tuo inferno ti do due ali sai il triangolo no non l'avevo considerato d'accordo ci troverò la geometria non è un reato quante volte ho guardato al cielo ma il mio destino è cieco e non lo sa e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia oscura il cielo ah insomma che bello sempre bellissimo riascoltarmi sì e devo dire che io lo sento anche se non ci vediamo mai un disgraziato mi dà gli appuntamenti poi no non posso però io sento sempre un forte legame quasi magico con lui sento sempre un brivido anche lui l'ha detto io quando l'avevo pensate l'ha detto lui io l'avevo mai parlato comunque tu hai vissuto il successo di Renato poi hai vissuto un grande successo televisivo perché appunto hai parlato tu del tuo debutto con Italia Sera poi è arrivato pronto che gioco insomma con Gianni Boncompagni sono stati anni veramente meravigliosi ma oggi arrivi praticamente con questo libro che è il tuo terzo libro questo è il mio terzo romanzo il condominio intanto io vorrei dire una cosa qui c'è una dedica che appunto è una dedica a zia Aldina che è stata molto felice di questa dedica possiamo sentirla? lei si trova nell'istituto Il Gabbiano a Piadena in provincia di Cremona e saluto tutti e tutte gli assistiti di questo bellissimo istituto veramente accogliente intanto so che sono a cena buon pranzo a tutti buona cena a tutti vediamo se arriva la zia Aldina ce l'abbiamo Aldina? 103 anni sta per con Chiarecce io non so come ringraziarne Enrica che ha dedicato niente meno che il volume al mio centenario non so come ricambiare come ringraziarla è sempre improvviso improvviso sempre mandagli un bacione non so come ringraziarla ecco fagli un bel sorriso e poi c'è tanti quegli auguri grandi 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 che posso realizzare tutti i suoi disegni che bella zia Aldina un abbraccio a tutti allora il condominio cosa racconti? il condominio ho una grandissima gioia nell'avere scritto questo libro perché insomma non nascondiamoci che sono tempi un po' pesanti questi per il mondo intero anche per noi magari ognuno c'è i propri guai tutti ce l'abbiamo e io addirittura mentre lo scrivevo mi divertivo mi alleggeriva da tutto mi faceva come una barriera contro tutte le cose scure è stato molto terapeutico sì e pare che lo sia anche a leggerlo perché dà allegria ed è un condominio un po' vero e un po' surreale io credo che tutti noi potremmo scrivere il condominio o no perché in realtà ognuno di noi nel condominio insomma ha gente anche un po' strana sì sì però questo qui è strano lui anche il cico che si chiamerebbe Francesco Maria von Altenberger però è cico e se ne va dal palazzo di famiglia e va a stare in cima a un condominio a 28 metri quadri come un nido d'aquila perché vuole stare in pace se tu leggi la frase quarta di copertina tu capisci che lui cerca la pace che nessuno gli rompa più le scatole che le nonne le zie le prozie i cugini di tutto il palazzo dove vive perché è un giovane nobile invece poi si ritrova praticamente a dover conoscere e occuparsi di tutte le situazioni condominiali diventa l'acqua santiere di tutti i condomini perché lui è talmente gentile che tutti pensano senti ma tua figlia Verdiana l'ha letto il libro? per sapere aspetta voglio chiedere a lei che cosa ne pensa Verdiana? come lo chiedi a lei? eccola no eccola no io me l'ho già stupita nel filmato ciao parorella ciao buona sera allora no io io non so io me l'ho già stupita che ci fosse il filmato perché insomma lei allora io ho ancora un minuto di tempo cara Verdiana tu hai letto il libro cosa ne pensi di mamma? dunque io il libro mi è piaciuto molto mi sono divertita molto nel leggerlo è stato anche io l'ho detto una specie di analisi come se fosse andata in analisi perché riconosco delle cose che lei ha scritto sue personali che mi hanno fatto sorridere mi hanno fatto commuovere emozionare poi dice so ma non dire anche quello che mangi come mangi perché io in Cico ho messo delle cose mie in alcune siamo all'opposto no? perché io ho anche troppa empatia verso la gente mi medesimo piango davanti al telegiornale invece lui ha proprio questa voglia di stare distaccato però in altre sono uguali sono cose mie come mangio l'estroversione no non è un difetto in realtà a volte è molto è talmente sempre sincera estroversa che a volte viene capita male la sua sincerità e il suo dire sempre quello che pensa comunque in realtà sono un po' brusca mi chiamano bruschetta bruschetta però in realtà è un pregio costa poco pane e olio e niente la pancia grazie di cuore grazie per essere con noi bentornata a casa anche tu questo è stato possiamo fare come una volta naso 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 grazie grazie una brevissima pausa ci vediamo fra poco grazie grazie